Il titolo di chiesa cattolica e apostolica non ce l'ha solo la chiesa cattolica romana. Cattolico deriva dal greco e significa universale. Anche gli ortodossi, gli anglicani, i vetero cattolici, più altre chiese minori si autodefiniscono cattolici, ritengono di avere la successione apostolica, condividono i primi sette concili che la cristianità ha fatto, prima di ogni scisma, riforma e divisione, nel primo millennio d.C. e credono tutti nelle tre forme del credo, quello di Ceno Costantinopolitano, che si regita in chiesa, quello apostolico e quello atanasiano. L'unica differenza è che gli ortodossi e i vetero cattolici non accettano il figlio dioque, cioè il fatto che lo spirito santo proceda dal padre e dal figlio, poiché è stato accettato, è stato aggiunto, diciamo, dal patriarcato d'Occidente, in concili che non sono stati riconosciuti come ecumenici, perché non partecipano i vescovi delle altre chiese. Comunque sia, dovrebbe essere inutile dirlo, gli anglicani non sono protestanti. loro propongono una via media tra il cattolicesimo e il protestantesimo, anche se sono più simili ai cattolici oggigiorno. Inoltre, gli ortodossi, gli anglicani e i vetero cattolici non accettano l'infalibilità del papa. Anzi, i vetero cattolici nacquero proprio per questo motivo, reggettare il concili vaticano I, in cui si programma l'infalibilità del papa. Gli anglicani e i vetero cattolici sono in piena comunione tra loro, cioè come se fossero la stessa chiesa. Vetero cattolici e cattolici romani sono comunque in comunione parziale, cioè i sacramenti, le messe, anche le ordinazioni sacerdotali, sono valide in entrambe le chiese. Viene riconosciuta anche la successione apostolica, però di recente non sono più in ottimi rapporti, e li vedremo anche per quali motivi. Ortodossi e cattolici, come avete potuto vedere nei tre giornali di recente, si stanno avvicinando di parecchio, per via delle comuni vedute conservatrici. Gli ortodossi partecipano alle conferenze episcopali anglicane, cioè le conferenze di Gabet. Gli hanno firmato un documento con i vetero cattolici dove dichiarano di avere praticamente gli stessi principi di fede, solo che anche ortodossi e comunione anglicana non vanno più d'accordo con una volta, anche per quale motivo. Nella pratica le divisioni tra queste chiese sono in origine di natura politica, e oggi ci sono anche delle scoglie legate a queste storie che stiamo per vedere adesso.